Sarà Massimo Paci il nuovo allenatore del Teramo, l'ufficialità nelle prossime ore, ma ormai non sembrano esserci più dubbi, l'ormai ex tecnico di Montegiorgio e Forlì è pronto per la prima esperienza nel campo dei professionisti, almeno in panchina, visto che da giocatore ha messo insieme 185 presenze in Serie A con le maglie di Lecce, Ascoli, Parma, Novara e Siena e 129 in Serie B. Da quando ha intrapreso la carriera dell'allenatore, Paci ha avuto finora due avventure, la prima a pochi chilometri da casa a Montegiorgio, 51 punti e un ottavo posto in coabitazione con la Isina, fatto di 13 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte nel torneo, poi vinto dal Cesena. La stagione passata è il cambio, prende le redditi del Forlì e anche qui, prima dello stop per l'emergenza sanitaria, centra l'ottavo gradino in classifica a 42 punti nel Girone D, che ha visto il successo finale del Mantova davanti al Fiorenzuola. Casualità? La stessa posizione, l'ottava, con cui il Teramo ha chiuso l'annata di Lega Pro, cosa che gli ha permesso di accedere al primo turno playoff. Adesso la sfida più complicata ovviamente, perché sale di un gradino e perché dovrà fare i conti con un torneo per nulla paragonabile a livello di avversarie con quelli che ha disputato, soprattutto considerando che non più tarde di 24 ore fa anche il presidente Franco Iachini ha ammesso di voler dare un taglionetto alle spese della scorsa stagione. Dovrò sicuramente ridimensionare qualcosa, ma naturalmente noi non siamo nella fase della svendita, noi non svendiamo nulla, noi vendiamo. Quindi se ci sono delle richieste interessanti per qualche giocatore vuol dire che per noi questa sarà un'occasione per dimostrare che abbiamo lavorato bene, perché se vendiamo qualche giocatore dalla nostra categoria a una categoria superiore vuol dire che chi ha lavorato, ha lavorato bene. Paci da domani, quando scatterà il ritiro conoscerà una squadra che ha una struttura già consolidata, ma anche un contenzioso aperto tra i big in organico e la dirigenza per gli stipendi Covid. No, questo non voglio dire nulla perché non credo che sia una domanda, è un rapporto tra le parti, quindi non vedo perché voi lo dobbiate sapere sinceramente. Un rapporto tra una società privatistico, tra una società e un calciatore, quindi non vedo perché debba essere divulgata alcune informazioni su questo. Anzi, la ritengo una domanda poco corretta, scusami. Poi ci sarà da fare mercato e il presidente Biancorosso attende fiducioso che si concretizzino delle plusvalenze che confermerebbero il buon lavoro svolto un'estate fa. Solo successivamente, quando entrerà denaro fresco, i cordoni della borsa si apriranno nuovamente. Io le plusvalenze me le aspetto non solo per aiutare la società, me le auguro, ma per un semplice motivo. Perché? Vuol dire che abbiamo lavorato bene, perché fare plusvalenze in questa categoria è un risultato assolutamente impegnativo. E credo che nella storia del Teramo ci siano state poche occasioni in cui sono state fatte plusvalenze, specialmente in categorie superiori, da quello che mi hanno detto, perché sinceramente non la conosco approfonditamente. Quindi fare plusvalenze è un doppio sogno. Uno perché vuol dire che hai lavorato bene, uno perché aiuti la società.